Bene amici, ce l'abbiamo appena arrivato da UK, il pacco dove dovrebbe esserci dentro Pixel 5, sì perché arriva da UK, perché in Italia purtroppo non viene venduto e allora l'ho comprato proprio su Amazon UK ma vediamo cosa c'è dentro, questo Insta360, l'ennesimo bastone per le Insta360 grazie Insta ma ce ne ho 57 57, tra l'altro divertente la storia dell'unboxing di un paio di settimane fa mi pare era arrivata questa l'ho unboxata tranquillamente e poi mi arriva la mail dalla PR che tra l'altro è un'italiana, origine italiana, vive in Cina e fa Andrea ti prego, ti prego tagliala, tagliala, tagliala perché io perdo il posto di lavoro mi sono dimenticato di dirti che c'era un embargo e fino al che giorno era? porca vacca è ancora sotto embargo oh sarò pirla eh vabbè devo tagliare ancora tutto oscurerò tutto passiamo a questo scatolone allora dovete sapere un'altra cosa perché allora gli unbocchi sono un po' che chiacchierate tra amici questo è un periodo davvero particolare se mi viene da ridere perché cioè vabbè pieno di embarghi cos'è un embargo? un embargo è una sorta di accordo tra le parti tra l'altro no no che bella questa non è sotto embargo Chromecast nuova questa è super interessante nel frattempo che la sballo vi racconto un embargo è un accordo tra l'azienda che magari ti manda un prodotto prima che esca sul mercato e chi lo deve provare chi lo deve far vedere chi lo deve testare che si impegna a non farlo vedere prima di una certa data niente non mi aveva comunicato questo non mi aveva comunicato la data quindi io tranquillamente unboxo guardo che bello che bello che bello pubblico online dopo 20 minuti arriva la mail sua che si scusava che si era dimenticata di dirmelo e quindi niente uscirà più avanti ma Chromecast perché è super interessante allora tra l'altro è arrivato anche il nuovo OLED LG 65GX molto molto interessante anche lui G-Sync Apple Airplay integrato HomeKit Alpha 9 di terza generazione del processore dentro poi lo sballo e lo porto subito a casa perché voglio provarlo con questa Chromecast che oltre ad avere la possibilità di fare streaming dal proprio telefono o dal proprio PC di contenuti alla televisione può fare anche da Google TV lei dentro ha proprio una Google TV integrata quindi funziona tranquillamente anche senza streaming con il suo telecomandino che dovrebbe essere questo qua vediamo com'è fatto molto carino con il comando tasto per i comandi vocali bello bello 70 euro questo sì che viene venduto anche in Italia ma ci sarà il Pixel qua dentro spero proprio di sì perché era l'unica cosa che aspettavo da Amazon UK di solito non compro su Amazon UK e sì è lui è lui c'è solo lui dentro non è che Amazon no Amazon non mi ha fatto un altro regalino Pixel 5 e la cosa che mi piace di questo Pixel 5 comunque no non sono le due linguette per aprirlo che comunque danno una bella soddisfazione cioè quando ci sono i sigilli che sono non reversibili cioè quando li togliete la scatola non tornerà mai più come nuova è per me una goduria tra l'altro facciamo una piccola comparazione qui dentro c'è il caricabatterie qua non c'è il caricabatterie guardiamo un po' la differenza di dimensione della scatola beh c'è un po' di differenza in altezza in pianta più o meno simili anche perché i due telefoni sono simili allora vi dicevo oh che bello compatibile che leggerezza ragazzi 151 grammi pellicolina davanti dietro non c'è allora io è da qualche recensione che con i telefoni grandi con le batterie troppo grosse con il too much sto litigando basta too much un po' un ritorno a quella a quell'equilibrio generale tra tutte le varie componenti prestazioni prezzo è quello che auspico che predico e che pipponeggio un po' in realtà su pixel ci sono un po' tutte queste cose c'è un po' un ritorno al passato nel senso che purtroppo quei progetti molto interessanti di google tipo il radar anteriore che riusciva a capire quando eravamo vicino la fotocamera tutta la sensoristica anteriore per lo sblocco tridimensionale qui è stata tolta è stato fatto anche un passo indietro a livello di processore perché qua non abbiamo un top come l'865 ma abbiamo il 765G sempre ovviamente Qualcomm Snapdragon e però abbiamo visto altri telefoni con quel processore che girano comunque benissimo batteria da 4000 mAh ricarica wireless anche inversa molto strano il touch and feel adesso che ce l'ho qua in mano della scocca perché è sia alluminio ma rivestita da un polimero una bioresina riciclata e quindi non lo so vedremo sensore dietro un po' anacronistico comunque comodo anche se sotto il display è secondo me tutta un'altra cosa che bello quando ho ragione vi ricordate la recensione del pixel 4 bellissimo sì ma che non aveva la grandangolare avevano messo la zoom inutilissima rispetto alla grandangolare o inventi tre camere o dai presenza alla grandangolare rispetto alla zoom Google mi ha dato ragione perché qua dietro abbiamo una grandangolare da 16 megapixel e una normale da 12.2 ritengo faccia delle ottime foto come sempre i pixel e come li fa anche il 4A che ho provato il display da 6 pollici OLED 90 Hz vediamo cosa c'è poi in confezione ovviamente le istruzioncine il caricabatterie da quanti watt è dovrebbe essere da 18 watt vediamo se lo leggete voi io ormai a una certa età e da vicino non leggo più un piffero e poi c'è il cavo tipo C tipo C e l'adattatore da USB normale a tipo C ecco cosa poteva mettere Apple in confezione l'imort è cioè mettere dentro ok il cavo tipo C tipo C ma mette dentro anche l'adattatore non vuoi mettere proprio il caricabatterie mettimi almeno l'adattatore però tirate d'orecchie anche a Google perché non c'è dentro l'adattatore per il jack per le cuffie che ovviamente non c'è ma adesso anche loro hanno il loro ecosistema con le Pixel Buds che tra l'altro sono tra le mie true wireless preferite sto parlando troppo ho tante cose da provare oggi sto provando l'11 no scusate il 12 standard oggi esce alle 3 poi la recensione sì di iPad Air domani recensione iPhone 12 Pro dopo domani iPhone 12 adesso sotto subito anzi no domani dopo aver provato l'iPhone 12 approfonditamente il Pixel 5 che io non so già che mi piacerà non vi ho detto quanto costa 650 l'ho pagato in UK in Italia non c'è Amazon ci dà sempre una mano ciao vado a giocare gioca la tv da montare che bella l'ho pagato in UK l'ho pagato in UK l'ho pagato in UK l'ho pagato in UK Grazie a tutti.